Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica, il signor pomata è assente, dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio. Appio della mignota, ecco il messaggio, sorve e tresca, se non mi ridai subito i 300 mila lire, io te rompo, sto tutti i giorni giù al portone, e sei tacchiato. Il tempo a molta disposizione è scaduto, grazie per aver chiamato. Allora, via l'intera.